Ora le persone devono essere punite. Sarebbe questo l'ultimo messaggio inviato dall'autore della sparatoria di lunedì in un campus universitario di Heidelberg in Germania, durante la quale una giovane è morta e altre tre persone sono rimaste ferite. Il destinatario era il padre del 18enne che, secondo le prime indagini, stava pianificando un vero e proprio bagno di sangue. L'ex studente, un tedesco e residente a Mannheim, aveva infatti nello zaino oltre 100 proiettili. La polizia sta cercando di capire come il ragazzo, che non aveva il porto d'armi, abbia potuto procurarsi fucile da caccia e munizioni acquistati all'estero. Sconosciuto alle forze dell'ordine senza precedenti penali, il 18enne lunedì ha fatto irruzione in un'aula della facoltà di medicina, sparando in testa una giovane studentessa, morta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Dopo essere scappato dall'aula, ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita.